Trentino Alto Adige, due anime per una terra, di Isabella Bossi Fedricotti. La mia regione ha qualcosa di speciale, che altre non hanno. A metà circa della sua estensione cambiano i nomi, i colori, le architetture, la lingua. È una regione doppia la mia, anche se lo sa bene soltanto chi vi abita o vi ha abitato. Chi non la conosce o vi è stato solo come turista, difficilmente se ne rende conto. È capace di pensare, per esempio, che dappertutto si parli anche il tedesco o che Speck e Wüster siano, da nord a sud, piatto regionale per eccellenza. Ancora oggi, come quando ero piccola, viaggiando mi piace cercare, in vano, il punto preciso del cambiamento, lo spartiacque dove le case non sono più di pietra soltanto, ma anche di legno, dove i campanili delle chiese finiscono in cielo con il tetto appuntito, dove i contadini portano il lungo grembiule blu, la falda, per lavorare nei campi. Succede ufficialmente a Salurno, piccolo centro che segna il confine tra Trentino e Alto Adige, ma già prima di raggiungerlo si possono cogliere suggestioni tedesche nei nomi degli abitanti, nella forgia di qualche edificio, nelle insegne delle osterie. E passata quella soglia, per un bel pezzo ancora, sono vive tracce italiane, di nuovo nei nomi degli abitanti e in qualche recente architettura di gusto tendente al Mediterraneo. I confini politici sono convenzionali, ma ci pensa poi la vita a spostarli a seconda delle necessità, degli interessi, dei sentimenti. Fino agli anni 50 i salurnesi erano in maggioranza di lingua tedesca, oggi è viceversa, lo sono di lingua italiana. Ma viaggiando lungo quella tratta che porta da sud a nord, non guardavo e non guardo soltanto paesi e campi, guardavo e guardo anche su, verso i castelli, ancora intatti, verso le torri, le rocche e le rovine che costellano i picchi da una parte e dall'altra della grande valle percorsa dall'Adige. Erano le sentinelle, le guardiane del territorio, e con la loro presenza, ancora oggi, testimoniano del passaggio incessante, per secoli, nelle due direzioni, altrimenti non sarebbero state così numerose, di soldati, principi, commercianti, avventurieri, vescovi, frati, scienziati, maghi, indovini, filosofi, artisti, ministri e imperatori. Possono mai essere passati tutti questi senza lasciare traccia su di noi, trentini o altotesini? Ci sarà pure una ragione per la quale tendono a descriverci come un po' chiusi e un po' sospettosi e molto cauti, ma anche pronti a imbarcarci per terre lontanissime. Comincio il mio viaggio da sud, da Rovereto, la mia città, che è sempre stata di lingua e cultura italiana, anche quando era parte, fino alla fine della Grande Guerra, dell'impero austro-ungarico. Centro colto ed elegante, deve la ricchezza, alla base dei suoi magnifici palazzi, delle chiese, delle curatissime vie e piazze, ai veneziani, che la incamerarono nel territorio della Repubblica e la tennero per un secolo quasi, dal 1416 al 1509. Poche sono le tracce che rimangono di questa dominazione. La maggiore chiesa, dedicata a San Marco, dove Mozart, 14enne, tenne uno dei primi concerti italiani. Sei leoni sparsi per la città, una calle Basadonna e una calle dell'Aquila. Però i veneziani insegnarono ai Roveretani la preziosa arte delle sete e dei broccati, sviluppando una tradizione tessile già presente grazie all'acqua che scorreva abbondantemente nel torrente leno, lungo il quale sorgevano le filande, una accanto all'altra. E, maestri i veneziani, i Roveretani divennero, oltre che fabbricanti di sete e di damaschi, anche commercianti. Le famiglie si arricchirono, compresa quella del filosofo Antonio Rosmini, costruirono palazzi e chiese. L'eleganza, dunque, la si può considerare un'eredità della Serenissima, mentre la cultura Rovereto la deve in gran parte all'imperatrice Maria Teresa, che promosse il sistema scolastico, in particolare quello professionale. Un grande Roveretano, Fortunato De Pero, del quale è d'obbligo visitare la meravigliosa Casa d'Arte Futurista in Via dei Portici, diceva che la sua fortuna era stata l'aver frequentato una scuola professionale di Rovereto e l'aver avuto un insegnante di arte che, quando disegnava delle piccole case tutte storte, invece di sgridarlo o di strappargli le pagine del blocco, gli diceva Vardem cosa vien fora, e cioè vediamo cosa vien fuori. Un'altra meta obbligatoria è Palazzo Rosmini, uno dei più belli della città, casa natale del filosofo che si affaccia sull'omonimo corso, oggi di proprietà dei padri rosminiani, costruito dallo zio architetto che sostenne finanziariamente il nipote nella sua passione per i libri, custodisce nelle sue stanze la preziosa biblioteca dell'abbate, d'impronta teologico-filosofica. Siccome gli antichi volumi mal sopportano il caldo, meglio coprirsi bene per entrare, perché dentro il clima è gelido, prima di prendere la strada verso nord va da sé che occorre fermarsi al MART, museo di arte contemporanea disegnato da Mario Botta, da vedere per il contenitore come per il contenuto e arrampicarsi su al castello le cui sale ospita il Museo della Guerra, uno dei più importanti d'Italia, che volontariamente o involontariamente fa toccare con mano la spaventosa, orrenda e ferata realtà dei conflitti. Proseguo poi su per la valle, nel mare di Vigne a destra e a sinistra del percorso, in direzione Trento, inevitabile a metà strada tra le due città, gettare uno sguardo a Castelbeseno, impressionante maniero comprendente un villaggio fortificato, che si stende lungo la cresta di una collina, così maestoso da non poter passare inosservato, da visitare se si vuole. Nel caso che il castello fosse assediato, un sentiero segreto conduceva in alta montagna a una malga fortificata, alzando gli occhi la si può vedere, piccola macchia bianca sotto la cima della scanuppia, rifugio estremo per chi andava a ogni costo salvato, i giovani figli maschi, immagino. Trento è una città di chiese innumerevoli, in quanto per secoli governata da un principe vescovo fornito per lo più dalle grandi famiglie trentine, più spesso di stirpe tedesca, ma a volte anche italiana, come nel caso di Bernardo Clesio, originario di Cles, in Val di Non, coltissimo uomo di legge, nonché abile diplomatico, amico di penna di Erasmo da Rotterdam e consigliere dell'imperatore asburgico Massimiliano I. Ristruterò chiese e castelli, in primo luogo la sua residenza, il buon consiglio, chiamando ad affrescarlo Dosso Dossi e il romanino. Rischiò anche di diventare papa, ma giudicato troppo tedesco dai cardinali italiani e troppo italiano da quelli tedeschi, incarnava, insomma, il trentino perfetto. Il conclave all'ultimo gli fu preferito Alessandro Farnese, Paolo III e anche del buon consiglio, il più importante monumento storico della regione, si può dire che sia edificio trentino per eccellenza, mescolanza di nord e sud, di gotico e veneziano, di rinascimentale e tirolese. È meno austero di quello, ma ricorda molto l'imponente rocca di Tratsberg, incollata alla parete boscosa al nord di Isbruck, non a caso Castello di Caccia di Massimiliano I, l'imperatore consigliato da Bernardo Clesio. Famosi e meravigliosi sono gli affreschi del ciclo dei mesi dentro la Torre dell'Aquila, risalenti al 1400, ingenui, raffinati, efficaci, suggestivi, opera di un anonimo pittore boemo. Raffigurano vite di nobili e vite di contadini, serene, liete, espressione perfetta di linguaggio cortese. Mi dispiace che manchi proprio marzo, il mio mese, in un qualche secolo distrutto da un incendio. E chi volesse vedere, e io lo voglio, la faccia dura e scura di Bernardo da Cles, il più illustre tra i principi vescovi, si deve soffermare nella sala delle udienze a osservare il suo ritratto sopra la porta, opera del romanino che lo raffigura in tento al lavoro assieme al suo segretario. Ma la visita al buon consiglio va fatta anche perché è utile per capire la storia, la geografia, la società trentina. Il suo museo ospita infatti le collezioni provinciali di archeologia e arte, antica, medievale, moderna e contemporanea. Inevitabile che qualche visitatore preferisca andare a vedere il prato tra castello e mura poste a est, denominato Fossa dei Martiri, dove fu impiccato Cesare Battisti. Un amico di un amico di mio nonno, giovane militare austriaco presente all'esecuzione, sosteneva che la corda si fosse spezzata, ma non bastò per mandare salvo il condannato. Dicevo delle chiese, prima tra tutte e naturalmente il Duomo, davvero magnifico, nella piazza con la fontana del Nettuno e tutto intorno la scenografia dei palazzi affrescati. È la cattedrale romanica di San Vigilio, patrono della città, che porta le tracce degli interventi voluti dai principi vescovi di epoche diverse, senza che per questo abbia perduto la sua straordinaria armonia d'insieme, la sua eleganza, la purezza dell'Ine. Di molti di loro custodisce i monumentali sepolcri, le cui iscrizioni forniscono, a chi ne fosse curioso, e io lo sono, piccole tessere della grande storia del principato vescovile. Una chiesa sopra l'altra, perché sotto il Duomo, grazie a scavi recenti, è stato trovato un antico tempio edificato sulla tomba di Vigilio e su quelle dei tre antichi martiri Sisigno, Martirio e Alessandro, mandati quassù dal grande vescovo milanese Ambrogio per convertire i pagani della Val di Non, dai quali furono invece brutalmente massacrati. Ma c'è un'altra chiesa, poco distante, che mi piace visitare. È Santa Maria Maggiore, anch'essa fatta costruire da Bernardo Clesio, e che appena pronta servì da sede per la terza e ultima sessione del concilio di Trento, dal 1545 al 1563. È un bel edificio rinascimentale, ma ci vado soprattutto per via di certi affreschi della volta e di un quadro raffiguranti appunto i padri conciliari, impressionante armata di uomini vestiti di rosso, di viola e di nero, schierati in rigido ordine militare per fermare il potente, invadente, temutissimo nemico protestante. Prima di continuare verso nord, faccio una deviazione a sinistra, in Varrendena, direzione Pinzolo, per rivedere ancora una chiesa, a sua volta dedicata a San Vigilio. È fuori dal paese e la danza macabra con la quale Simone Basquenis ne ha affrescato le pareti? Ogni volta mi costringe a fissare per minuti e minuti la raffigurazione del crudele destino umano. Leggiadro, spensierato rondò con la morte, sempre in agguato alle spalle di tutti quanti, grandi e piccoli, poveri e ricchi. Poi riprendo la strada che mi porta ad attraversare quell'incerto confine tra i due mondi, italiano e tedesco, che ancora per un tratto si alternano e si mischiano. Ed eccomi a Bolzano, mezza meridionale e cittadina con industrie e negozi di sciccherie firmate a Armani e Prada, e mezza settentrionale e più paesana, con strade porticate, insegne di ferro battuto e brezzel appesi nelle panetterie. Intorno, castelli e rocche numerosissimi, molti dei quali si possono visitare, tanto che la conca di Bolzano è stata dichiarata la zona più alta densità di castelli in Europa. Quattro sono le cose che voglio fare qui, sedermi a un caffè nella grande piazza Walter, Fonder Vocalwide, il trovatore che per i sud tirolesi è qualcosa come per noi Dante, circondata dai più bei palazzi storici della città, per osservare lo sbalordimento dei turisti in questa città dall'anima doppia, dove capita di vedere sfilare più spesso battaglioni di Schutzen, ma anche, più raramente, drappelli di alpini. Passerei a salutare Ossi, l'uomo di Similaun, che riposa, forse un po' meno solo che sul ghiacciaio dove l'hanno trovato, nel Sancta Santorum del Museo Personale. Sempre in cerca dell'anima doppia della mia regione andrei poi a visitare i due mercati, quello quotidiano della frutta e verdura in piazza delle erbe e, anche se è un po' fuori mano, quello contadino del sabato in piazza Matteotti. Perché nel primo si sentono piuttosto accenti veneti, pugliesi, siciliani e di conseguenza tali sono anche i prodotti. Mentre nel secondo, più spesso, si coglie, invece, il tirolese dei luoghi. Come dei luoghi è ovviamente l'offerta. Raggiungerei, infine, la vecchia parrocchia di Gries, che custodisce un frammento di palla d'altare raffigurante l'incoronazione di Maria. Una Maria raffinata, elegantissima e molto vivente, scolpita nel legno da Michael Packer, mitico artista nato vicino a Brunico intorno al 1435, che, andato a bottega a Padova, introdusse per primo, nella scuola tedesca, elementi di quella italiana, facente capo a personalità come Donatello, Bellini e Mantegna, con i quali era entrato in contatto. Con quella sua Madonna, dalle guance rosse, ma dai tratti niente affatto di montagna, risultato delle sue esperienze tirolesi e padovane, del suo lavoro a Salisburgo, dei suoi viaggi di studio a Mantua e nei Fiandre, questo scultore, sempre in movimento tra nord e sud, abbeveratosi a due culture, al meglio interpretava, secondo me, già sette secoli fa, lo spirito specialissimo, se non unico, di questa regione. Grazie. 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 Grazie.